Due famiglie sfollate e questo il bilancio della frana avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 5 aprile a poche decine di metri dal centro abitato di Bracca. Un forte boato è poi la porzione di parete che si stacca precipitando oltre la strada rurale che conduce al bacino dell'acquedotto tanto da creare un vuoto nella roccia. Consistente il materiale sceso nel bosco sottostante mentre alcuni macigni di diversi metri cubi sono arrivati oltre la strada a pochi metri dalle abitazioni di due famiglie fortunatamente senza conseguenze a persone o cose. È stato proprio l'assordante rumore avvertito a notevole distanza a far attivare la macchina dei soccorsi. Sul posto anche il sindaco Giacomo Gentili che ha voluto verificare personalmente la gravità della situazione. Per precauzione ha affermato il primo cittadino abbiamo dovuto sfollare due famiglie per un totale di sette persone che hanno trovato ospitalità da parenti. Ho avvertito subito il geologo e la regione di quanto accaduto tanto che nel corso della mattinata di questo mercoledì i tecnici sono intervenuti per una prima sommaria valutazione e per la messa in sicurezza dell'area. Nel frattempo la zona situata in prossimità al campo sportivo alla postazione per ricarica delle bici elettriche è stata transennata.